Emergenza migranti, sono oltre 8.000 gli sbarchi sulle coste italiane nel mese di aprile. La Ocean Viking è arrivata a Bari, mentre altri 500 profughi sono stati accolti nei porti di Augusta e Catania. Un fenomeno in continuo aumento, quello migratorio. Oltre 8.000 le persone sbarcate sulle nostre coste nel mese di aprile. In marzo i migranti sono stati 10 volte, tanto quelli dell'anno precedente. E le nazionalità sono sempre più africane, Costa d'Avorio e Guinea soprattutto, oltre a egiziani, tunisini, pakistani e cittadini del Bangladesh. Un 38enne del Camerun e ospite al cara di Capo Rizzuto è stato arrestato per violenza sessuale su una minorenne che si trovava nello stesso centro con la famiglia. La denuncia è arrivata dalla madre. Ha ormeggiato poco fa nel porto di Bari la Ocean Viking, la nave della ONG SOS Mediterranea, con a bordo 29 persone. Sono state soccorse giovedì sera a largo di Malta, partiti da Sudan e Bangladesh. Secondo quanto affermato dalla stessa organizzazione, la barca in vetro resina su cui i migranti affrontavano il mare agitato era in navigazione da 5 giorni alla deriva, in zona Sardilla-Valletta. È sempre di oggi un altro sbarco al porto di Roccella Ionica, nella Locride. 90 fra afghani, pakistani e siriani, tra cui 24 donne e 12 minori, sono stati tratti in salvo dalla guardia costiera. I migranti si trovavano a bordo di una barca a vela di una ventina di metri, salpata dalle coste della Turchia quattro giorni fa, localizzata a circa 75 miglia dalla costa Ionica della Calabria. E ancora, nella giornata di venerdì, in 500 sono approdati, fra Augusta e Catania, tutti salvati da nostre motovedette e da una nave di Frontex, mentre si trovavano su un peschereggio a largo delle coste siracusane.